effettivamente questa meglio 2-0 hai le spalle molto forte e tu sei mai allargato e tu fatti uno rapido 3-1 il braccio non l'ha fermato è andato a dritto sei sempre in anticipo bravissima Martina le gambe italiana per piacere 4-2 pensi un po' a troppe cose che siano fuori secondo me cosa ha fatto questo weekend Giorgia che non sa neanche più come si gioca e ci vuole porco diaz correrti addosso mentre stai salvando il pallone pensato che tu la tivi anche a Fiorete brava lei 5-2 mi dispiace Nicole vuoi cambiare? no ti devi allargare ti devi allargare tagliare la rincorsa in diagonale perché tu non saldi per forza sei obbligata non c'è un se sei obbligata 5-3 sei in cielo Dario sei in 3 sei in 3 sei in 4 devi piegare le gambe e avvicinare la correttamente a rete la tua volta attacca staccato è sempre di peso grande battuta 7-4 devi stare in equilibrio col corpo se vuoi battere 7-5 ok 7-6 grande battuta vai risetto ora ti sei allargata la volta 8-7 8-7 non avanzare apre da lì non ti può chiamare no non ti deve chiamare apre devi muovere il culo andare vicino se no impari a difendere scegli te 8 pari 8-9 faccio due ore prima 8-11 sono già 5 errori di battuta su 11 put 8-12 8-13 sì 8-14 6 errori su 14 punti 9-14 devi usare le cazze di gambe 10-14 vedete voi i punti quanto? 9-14 9-14 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 bravissima no hai la gambe se lo puoi fare lo fai in attacco se no lo alci se lo fai in attacco troppi errori in battuta grande mafuso Mario, bravissimo c'era vero? sette dodici sette nooo ma Dio Cristo no ma ho tirato forte ma che tirato forte che ci siamo avuti nel minuto di continuazione non potuta lo prendi dopo che il set è quasi finito bravo 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 sei in piedi Martina non serve a niente che tu difenda così l'unica cosa che ottieni è tirarmene un altro fuori dal campo non scuola scuola bravo e quindi fuori non fuori fai Grazie.